Musica Mi piace, vedo le lezioni americane, vedo che caldino Musica 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 ho tanto per ragionamento non voglio dire adesso io io so che sono poeti che ti parla alla cinema io so che posso dire tutto quello che aveva ce l'ha fatta perché insistito ha voluto e ha lottato uomo deciso nero il blu di mio autismo l'ultimo era il cittadino peri indossa un numeri camicia in poltone l'ha dato per rendere ricca di musso la tavola delle prezioni ed entrai all'interno di un locale incastonabile il marco dell'assate il miracolo si occupa di essere in presso alla morte ad attenderlo comodamente seduta sui gradini di fronte all'antare a presto la prima volta è via lo è di desagini di domenica lo trae di depredi di domenica il marco dell'assate e l'abbiamo letto una volta una mia amica a Marocleina tutta la potere è la religione che è una intrezza.